Adesso vi presento un uomo che è 100 uomini in un uomo solo, padre Daniele Moschetti. Non se l'aspettava, 100 uomini. Missionario comboniano. Da febbraio 2019, dopo l'Africa, la Palestina e gli Stati Uniti, è tornato in Italia alla sua missione a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove collabora con la pastorale dei migranti, se vi sembra cosa facile. Tra un istante andiamo a Castel Volturno, però facciamo un passo indietro. Poi vi presenterò anche il libro, con una prefazione molto particolare. Ma Daniele Moschetti, prima di diventare padre, chi era e cosa faceva? Detto così sono indagatoria, mi perdoni. Certo, certo. Beh, sì, io lavoravo, ho fatto 11 anni di lavoro, fino ai 15 anni e mezzo ho studiato, quindi corrispondente commerciale, inglese e tedesco, poi ho dovuto andare a lavorare. Quindi ho finito i miei studi di tre anni, però non potevo andare avanti a studiare ancora e quindi per 11 anni ho lavorato, fino a quasi 27 anni. Quindi questo è stato un po' il passaggio. Logico che nel frattempo ci sono state tante cose, il militare, quindi anche proprio un desiderio di far carriera nella ditta dove ero in quel momento particolare. Poi il discernimento proprio anche di quello che il Signore poi mi ha fatto fare di cammino, che ringrazio il Signore, mi ha fatto proprio questo cammino qua, di capire profondamente quali erano i valori profondi della vita e attraverso quello che è stata l'esperienza, anche quello del militare, del lavoro, di ritornare poi a scuola serale, oltre a lavorare serale, dopo 8 ore, altre 4 ore di studio, e poi anche quello che è l'esperienza di Manitese, di Manitese, quindi legata un po' all'Africa, soprattutto... È l'associazione Manitese, è un'associazione importantissima. Sì, è un'associazione nazionale, con vari gruppi in giro per l'Italia, che lavorano appunto per la coscientizzazione e proprio un lavoro anche di formazione e informazione, proprio, e anche con dei progetti in Africa, in America Latina e in Asia. Ho capito, però, lei, da uomo che aveva il suo lavoro, aveva la sua vita, come ha fatto? Cioè, quando è stato il volta pagina, se vuole, no? Per iniziare con una pagina completamente bianca. Non completamente bianca, perché gli estremi c'erano già tutti, però è una vita nuova farsi chiamare padre Daniele. Sì. No, nel senso che, quando io ho fatto il militare, è stato un momento importante, in quanto poi ho lasciato anche la Chiesa, di frequentare la Chiesa, ma dei valori fondamentali e importanti cristiani mi sono sempre rimasti dentro, per i miei genitori, dall'oratorio che frequentavo la parrocchia al mio paese, e questo poi rimangono, perché poi l'ho vissuti anche in termini di servizio all'interno della dimensione del militare. Sì. Quindi, anche in quello che poi è stato essere caporare, caporare maggiore, all'interno di quello che è stato il servizio ai miei commilitoni di quel tempo. E poi, tornando, appunto, come dicevo, quando trovavo anche la ragazza, quindi tre anni e mezzo insieme a questa mia ragazza, scoprì che era importante trovare quelli che valori fondamentali. Quando trovai Manitese, facendo un campo di lavoro nel sud Italia, ad Andria, scoprì esattamente un modo molto diverso. Un modo molto diverso. Senta, e il suo mondo di prima, sapendo perfettamente che io stia dicendo una cosa sbagliata, perché il mondo e gli affetti rimangono sempre quelli, però come è reagito a questa sua volontà di, ecco, tendere le mani verso tutti, allontanando però se stesso da un altro tipo di vita? Certo. No, ecco, indubbiamente i colleghi di lavoro, gli amici, i parenti, i miei genitori, appunto le mie ex ragazze, cioè tutte queste persone comunque remavano contro, logicamente, a quello che poi sentivo che comunque il Signore mi chiamava a un altro tipo di vita. E questo mi ha rafforzato. Non è stata un momento difficile, ma allo stesso tempo qualcun altro, con alcune maiuscola, dava una forza diversa. Ecco perché ho detto che ci sono 100 uomini dentro quest'uomo, perché ci vuole una grande forza, una grande pazienza, e soprattutto quando fai le valigie come missionario ci vuole un coraggio leonino. Adesso lei mi dirà no, assolutamente no, io le dirò non ci credo, ma questo gliel'ho premesso, quindi non le voglio mettere le parole in bocca. Allora lei nel 1992 si avvicina ai missionari comboniani? 88. 88, mi scusi. Chiede di andare nelle zone più difficili, Africa, Sud Sudan, per incontrare che tipo di realtà? Prima ancora Nairobi, Nairobi in Kenya, nelle baraccopoli, ho fatto 11 anni in Kenya. Ah certo, non è andato a Nairobi per andare al mare, guardi, io questo lo immagino, non la vedo in un resort, nel senso... No, certamente, padre Alec Zanotelli è un grande amico comboniano, Alex lo conoscevo prima ancora di entrare dai comboniani, infatti abbiamo fatto tantissimi incontri insieme, proprio con Manitese, Gallarate, dove io ero responsabile di quel gruppo, quindi il discorso di conscientizzazione della gente, della parrocchia, ma anche di tante altre scuole, tanto altro. Quindi con Alex poi ho preso il suo posto nel 2002 e sono andato avanti altri sette anni, prima dal 92 al 96, poi sono dovuto tornare in Italia per cinque anni a lavorare con i giovani, appunto aiutare loro anche nelle loro scelte. Dopo la mia esperienza di vita, quindi quello che è stato il mio discendimento, le mie domande, i miei dubbi, le mie crisi, ringrazio il Signore che proprio queste qua mi ha aiutato anche ad aiutare tantissimi giovani, che hanno fatto scelte diverse, da un soltanto punto di vista vocazionale, diventare missionaria, missionaria, no, 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 sono sposati, hanno fatto tantissime scelte professionali, molto belle. Ritornando in Italia in tutti questi anni, mi piace vedere anche quanta strada hanno fatto tantissimi giovani che ho conosciuto nel nord-est. Allora le faccio questa domanda, padre Daniele. Lei a Castelvolturno, in provincia di Caserta, si occupa della pastorale dei migranti. Io immagino che quello sia un modo per vivere in Italia, ma in realtà trovarsi in tanti differenti paesi. Perché anche qui la vita non è facile, perché lei incontra uomini e donne che hanno bisogno di ritrovare se stessi, loro stessi, prima ancora di trovare un lavoro, di trovare l'accettazione del luogo nel quale si trovano e dei luoghi dove vorranno andare. Allora le chiedo, noi come possiamo aiutare voi missionari? Noi, perché si può essere missionari, non voglio dire laici, è troppo facile, ma si può essere, insomma, utili. Io credo che è importante riuscire a capire e a comprendere. Io credo che la prima forma di solidarietà è davvero informarsi. Perché molto spesso c'è un'ignoranza da un punto di vista di non conoscenza di quello che è la realtà di Africa, degli africani e degli immigrati. Questo è chiaro. Dovunque faccio incontri, in giro per l'Italia, nelle scuole, con gli insegnanti, chiedi per te quanti sono gli immigrati oggi in Italia, sparano di quelle cifre assurde, senza rendersi conto che molto spesso sono soltanto delle percezioni e non la realtà. È logico... Quindi davvero, per me è il primo punto di partenza, perché se uno non conosce, non entra e non fa neanche esperienza, non si appassiona, non riesce a capire, anche mettersi nei panni degli altri, nelle scarpe degli altri, soprattutto di chi purtroppo scappa da situazioni veramente assurde. Lei è stato... ha vissuto un'esperienza molto importante nelle Nazioni Unite. E poi però... E ride, ha ragione. ha sentito fortissima la necessità di ritornare a calpestare un terreno che non fosse quello, per carità, meno male che esiste l'ONU, ma non ci fosse la moquette per terra, no? Certo. Perché è solo così che, conoscendo da vicino, che poi lei diventa volano di informazione dà le notizie giuste e fa le cose giuste? Ma sai, l'esperienza nelle Nazioni Unite è il Parlamento americano che è durato un anno dopo tutta l'esperienza di missione, di frontiera, di frontiera, sia nella Baraccopoli, a Corogoccio, ma anche in Sud Sudan, anche in Palestina. Tutto questo mi ha insegnato a stare vicino e ascoltare veramente la gente e a incarnarmi dentro la realtà, a sentire i veri problemi della gente. Per me è la cosa fondamentale anche per la mia vita, per la mia vocazione e per la mia missione. E quindi è come se fosse un po' davvero l'abbeverarsi sempre e come Papa Francesco continua a ripeterci, ce l'ha ripetuto anche domenica, il povero davvero davvero c'è maestro. E non ci rendiamo conto fino a quando davvero facciamo esperienza diretta. Io l'ho fatto in Baraccopoli, l'ho fatto in Palestina, l'ho fatto lì e devo dire che ringrazio Francesco di quello che si sta dicendo, ha fatto un bellissimo messaggio quello di domenica scorsa sul povero. Forse non so quanta gente l'ha letto, però credo che è un bellissimo messaggio di spiritualità. Ecco, questo per me è stato importante, la sentirmi che non avevo bisogno dei salotti e delle mochette delle Nazioni Unite a andare agli 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 al conto. Ho visto tutti i presidenti, i primi ministri in questo anno che sono stato, ma non mi interessava questo illustrine. Mi interessava più la vita della gente che lotta quotidianamente perché penso di avere quello che posso dare ma posso ricevere nel senso che ho ricevuto moltissimo dalla gente cento uomini in uno cento uomini in uno poi arriva oggi questo libro arriva nel senso eccolo qua è in studio padre Daniele Moschetti sud sudano il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità introduzione di Papa Francesco insomma è un è una bella soddisfazione sì certo, certamente soprattutto è una soddisfazione nel senso che diventa un libro del fare questo sì, Papa Francesco ama il sud sudano cioè io dal 2015 quando abbiamo partecipato ho partecipato come provinciale del sud sudano superiore provinciale proprio al nostro capitolo generale nel 2015 appunto parlai proprio in quella foto lì in quella foto lì dove appunto parlai proprio del sud sudano e lui ha detto Papa Francesco vogliamo vederti in sud sudano e lui già nel 2015 disse io voglio venire in sud sudano quando sarà in sud sudano? esatto nel 2017 doveva venire in sud sudano purtroppo insieme a Justin Welby che è il primate della chiesa anglicana sarebbe stata un viaggio giovanente storico purtroppo poi non andò così Welby ci andò ci stai due settimane nei campi rifugiati perché ci sono due milioni di rifugiati fuori dal paese e quasi un milione e mezzo di rifugiati interni lui andò a visitare Francesco non poteva andare veramente ha sofferto tantissimo perché me lo disse quando io gli diedi il libro in piazza San Pietro ridandoglielo lui mi disse alcune cose un po' di quello che è successo però con il grande desiderio di tornarci ancora profondamente una volta l'ho incontrato di nuovo ecco esattamente guarda l'altra foto proprio quella foto lì esatto e sono contento che proprio settimana scorsa ha ridetto le stesse cose nell'Angelus perché vuole tornarci fra spero speriamo davvero nel 2020 preghiamo che per questo che sarebbe un grandissimo dono per la gente del sud sudano lui ha baciato i piedi dei leader del sud sudano ma non li ha baciati come molti giornalisti o molti leader politici vedendoli in maniera negativa lui ha baciato i piedi di quei leader che sono stati tutti criminali quei cinque persone quei cinque generali perché sono tutti militari anche la donna la moglie di John Garan sono tutti generali hanno ammazzato migliaia di persone lui ha baciato i piedi di persone che hanno ucciso ma lui baciava il popolo del sudano questo è molto importante dirlo e comunicarlo e quindi il fatto che lui abbia detto di nuovo e anche con Justin Welby di andare insieme di nuovo a fare questa visita sarebbe davvero un grandissimo e in sud sudano ti posso garantire che sono stati molto contenti sia gli anglicani gli altri protestanti e i cattolici di vedere questo ritiro dei loro leader politici e militari qui a Roma in Vaticano fare questi due giorni di ritiro spirituale per il bene comune del popolo di sudano e non di se stessi e lui era richiamato molto su questo io penso che padre Daniele Moschetti seriamente parlando avrebbe fatto bene qualsiasi lavoro perché è un uomo che parla con passione però sapete che vi dico come siamo sottifortunati tutti che abbia deciso di fare il prete anzi il missionario ma che bella idea che ha avuto come parla proprio con la certezza di quello che dice allora signori all'applauso e all'abbraccio generale con questo grande padre missionario grazie di essere stato con noi grazie davvero padre noi adesso diamo l'appuntamento alla recita della coroncina alla divina misericordia e poi l'appuntamento per l'ora solare è sempre quello alle ore 14 da lunedì al venerdì il sabato c'è il sabato dell'ora solare vi aspettiamo grazie a tutti grazie padre grazie davvero grazie di cuore bravo bravo bravissimo grazie a voi grazie a voi